Preoccupati per essere preoccupati lo sono, come anche decisi, a far sentire la propria voce sul tema della sicurezza stradale e dell'incolumità fisica loro e delle loro famiglie. Sono i residenti lungo la Flaminia, nella frazione di Carrara, all'altezza del civico 422. Il problema è l'alta velocità che tengono i veicoli in questo tratto di strada, che risulta a ogni ora del giorno, ma maggiormente dopo le 18, per non parlare poi proprio della notte, dove sembra di essere ai bordi di un circuito di Formula 1. Si sentono, oltre che in costante pericolo, attraversare la strada anche sulle strisce e una roulette russa ormai, privati anche della loro libertà individuale. Fare una passeggiata con il proprio cane si rischia di tornare a casa solo col guinzaglio, accompagnare i bambini in bicicletta è meglio cambiare idea. E anche per accompagnarli a scuola i figli a soli 300 metri di distanza è più sicuro prendere l'auto. Qualche anno fa una signora qui sulle strisce ad esempio l'hanno buttata sotto e nessuno si è fermato, ha rallentato e ha fatto diversi mesi in ospedale e comunque è in casa allettata perché non si può più muovere. Quindi comunque la situazione è abbastanza critica, noi abbiamo anche i figli che prendono l'autobus qui davanti, quindi devono attraversare le strisce tutti i giorni e nessuno comunque rallenta, nessuno si ferma e la velocità è veramente alta. Qui c'è la scuola elementare, purtroppo non ci si può andare a piedi, bisogna sempre utilizzare la macchina e questo non vedo che sia giusto soprattutto per i bambini. Passaggio pedonale ignorato completamente? Ignorato totalmente anche perché è un rischio ogni volta che si attraversa. Cerchiamo di migliorare questa cosa a tutela nostra e anche degli altri cittadini logicamente. Pertanto le richieste dei residenti alla provincia di Pesaro Ubbino, proprietaria del tratto di strada, sono ovviamente dissuasori di velocità, estrisce pedonali illuminate e meglio evidenziate e naturalmente limiti di velocità più bassi. Certo, il nostro è una segnalazione da cittadini perché per prevenire, anche se già appunto qualche episodio c'è stato, proprio per prevenire anche eventuali futuri incidenti o disgrazie e quindi la nostra è una segnalazione da cittadini per questo tratto di strada affinché si possa fare comunque qualcosa, un intervento abbastanza rapido.